Alla presenza dei rappresentanti della Federazione dei Verdi e del Movimento regionale La Puglia, in più noi a sinistra, che hanno portato il loro saluto agli interventi e ribadito la necessità di proseguire il percorso comune intrapreso, si è tenuto il congresso cittadino del Movimento politico-culturale Giovani per Manduria. Il presidente uscente, Tullio Mancino, ha esposto le ragioni del nuovo corso del Movimento. Non è mancato un passaggio sulla situazione politico-amministrativa. Soddisfazione è stata espressa per il lavoro di aggregazione fatto in questi mesi dal Movimento. Non sono stati risparmiati commenti sui recenti avvenimenti e in particolare sul PD, che oggi si assume un'enorme responsabilità, preferendo fare da stampella ad un'amministrazione disastrosa, anziché lavorare alla costruzione di un progetto di alternativa progressista. Dopo due bienni in cui ingratamente sono stato presidente di questo Movimento, abbiamo deciso di favorire una fase di ricambio e di dare la possibilità a tanti giovani che sono cresciuti e hanno acquisito tanta esperienza in questi anni a fianco a noi, di raccogliere il patrimonio di questo Movimento e di realizzare ancora di più. Noi pensiamo che se tra i nostri obiettivi ci sia quello del rinnovamento, del ricambio generazionale, non possiamo non dare l'esempio prima di tutto noi. E questo abbiamo voluto fare affidando il Movimento a questi giovani che hanno in animo tante iniziative per il prossimo futuro e che soprattutto intendono continuare a portare avanti quelli che sono i principi di questo Movimento, la cittadinanza attiva, l'attenzione all'ambiente, alla cultura, alla informatizzazione amministrativa, obiettivi che hanno acquisito e che intendono portare avanti. E noi siamo ben felici che loro lo vogliano fare, perché il Movimento Giovani per Manduria è nato con un'idea di cambiamento completo della politica e, l'ho detto stasera, posso andare orgoglioso di una cosa di questi quattro anni di politica e soprattutto il fatto di essere riuscito ad infondere in questi ragazzi la passione per migliorare questa città. Tullio Mancino comunque non lascia la politica e sarà a contatto con questi ragazzi anche per portare la sua esperienza. Assolutamente. Io e tutti gli amici e le amiche che fino a questo momento mi hanno supportato saremo a fianco di questi ragazzi e ci impegneremo anche nel movimento regionale nel quale ormai facciamo politica, che è la Puglia in più. E, l'ho detto questa sera simpaticamente, stiano tranquilli coloro che pensano che Tullio Mancino esca dalla politica, perché Tullio Mancino ha preso un impegno con questa città e continuerà a portarlo avanti. L'Assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti ha poi eletto per acclamazione il nuovo gruppo dirigente, che avrà il compito di proseguire il cammino intrapreso nel prossimo biennio. Il nuovo presidente è Fabiano Comes, giovane imprenditore manduriano, che ha sottolineato nel suo intervento le linee guida, intorno alle quali verterà l'attività del movimento. Con che spirito si accinge a intraprendere questo incarico? Sostanzialmente lo spirito è quello di far capire una volta per tutte a questa città che l'inesperienza talvolta per un vizio di forma può coincidere con l'incompetenza. Io credo che questo sia il messaggio fondamentale da far passare. Ci sono tanti giovani e tante giovani a Manduria che hanno la voglia e le competenze soprattutto per poter portare avanti dei progetti come quelli che noi già nel tempo abbiamo portato avanti. Vogliamo sostanzialmente cercare di raggruppare quanto più giovani possibili della città che, come dicevo prima, abbiano la voglia di mettersi in gioco per la nostra città. Quindi di intraprendere questo percorso politico. Sì, assolutamente. Hanno fatto il loro intervento anche all'interno del congresso le nostre forze alleate che sono la Federazione dei Verdi e Noia Sinistra. Le forze con cui in questi anni abbiamo sicuramente costruito tanto e continueremo a costruire. Uno dei nostri obiettivi fondamentali è anche quello di allargare. Ci siamo collocati nell'area dei progressisti, come abbiamo detto. Proprio per questo speriamo di coinvolgere quanto più gente possibile. Parlo di gente senza fare riferimenti specifici che vogliano intraprendere questo percorso con noi. Il direttivo è composto inoltre da Giorgio Di Noi, vicepresidente, Federica Perrucci, segretaria, Mattia De Martinis, tesoriere, a cui si aggiungono i consiglieri delegati Lorenzo Alemanno, Donatella Tanasio, Simone Fontana, Valerio Pennetta, Mino Urbano, Stefano Gennari e Rafael Di Giacomo.